Gara 1 favorevole alle squadre casalinghe nei quarti di finale dei play-off del campionato di Serie C. L'incontro più equilibrato è quello proposto nelle immagini e disputato a Cerignola, dove Olimpica ha battuto Wemi e Van Fredonia ad una sola lunghezza 66-65. Il minimo stagionale dei punti in attacco non ha impedito ai padroni di casa di aggiudicarsi l'andata al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi, sino alla sirena conclusiva. Meno tirato l'andamento delle altre tre gare, Nuovalius Sansevero ha superato Adria Bari con uno scarto di 30 punti, 83-53, mentre Cestistica Ostuni ha regolato Cestistica Barletta per 98-73, nonostante le assenze Dimensione e Caloia. Primo round vinto anche da Diamond Foggia, che ha prevalso su basket Spasano per 75-58, con Dell'Aquila top scorer di giornata con 28 punti. Gare di ritorno fra mercoledì e giovedì. In Serie D, definite con l'ultimo turno anche le posizioni della griglia dei play-off e dei play-out. L'altro accesso alla C regionale passa dalle semifinali fra Sunshine Vieste e Action Now Monopoly e fra Mensana Misagni e l'altra Monopolitana, AP. Anche in questo caso si gioca al meglio delle tre partite, con l'eventuale Bella da disputarsi in casa di Garganici e Brindisini, piazzatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto nella stagione regolare. In coda, Magic Galatina guadagna in extremis una posizione, sorpassando Basket School Martina che dovrà ora affrontare per evitare la retrocessione. L'altro incrocio dei play-out è fra Aspi, Santa Rita Taranto e Olimpia Rutigliano, con gli Ionici che cominciano la serie in casa. Feste già intanto, Libertas Altamura promossa in C, raggiungendo quota 50 dopo la larga vittoria di Monopoly contro Action Now. Il bilancio stagionale di coach la terza. È stato un campionato molto bello, molto equilibrato, soprattutto perché le squadre monolitane sicuramente hanno aggiunto quel quid di qualità a questo campionato che all'inizio sembrava non di alto livello, però poi alla fine abbiamo notato che c'erano squadre congelatori di altra categoria.